Monitor, monitor, oh, è un'astronave, non ci credo, no è comparsa uno sgabello, così all'improvviso Che carina, vabbè ce l'avevo sotto la scrivania, eri tu che non lo vedevi, scusa È più felice di noi giocando, guardala, cioè sta pensando sempre ai party, no non ce la facciamo oggi Non ci credo E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e questo giorno giocheremo a Youtubers Live E come prima cosa andiamo subito a salutare i nostri tre eroi del giorno, che per oggi sono Chicken YouTube Antonio e Benedetta Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione E siamo tornati qui con il nostro Stereniki Ha fatto qualche video per cercare di risollevare il morale dei nostri iscritti Che se vi ricordate era davvero a terra, non so perché ci odiavano, come si può odiare Sereniki? Io direi che è arrivato il momento di fare una bella collaborazione Dato che nello scorso episodio non abbiamo avuto tempo Esatto Ci rifacciamo questa volta, io direi ovviamente con Tessa Certo, la nostra ragazza bisogna sfruttarla un po' La presentiamo subito No, sfruttarla no Sembrerebbe quello Al massimo sono io che sfrutto te Non si sfruttano le ragazze ma si sfruttano gli Steph Ma secondo te, ok Ti ho sentito, eh Mi stai ignorando Sto andando facendo finta di nulla ma ti ho sentito bene Perché ignori sempre i miei insulti? Perché mi insulti? Sai perché? Perché sono troppo potente e non sai come rispondere Tu, una volta, ok Una volta solo nella vita Prova a dirmi, Steph, sei bellissimo Vedrai che ti risponderò e non ti ignoro Vabbè andiamo avanti col gioco Chiama Tessa Ora mi ignori tu Esatto Chiama Tessa perché ovviamente Ma ti volevo far vedere una cosa Ok, che Tessa è livello 1 come youtuber Mentre vedi abbiamo persone di livello 20 Quindi E questo qua è un canale di fashion Con quella barbetta come potrebbe non esserlo Con quella faccia Con quella fascettina in testa Un canale di beauty e fashion Vedi abbiamo anche Diana Ti volevo dire una cosa Cooking Figata però Aspetta, aspetta Fammi parlare perché mi stai dando troppe informazioni Non riesco più a parlare Sicuramente sulle persone Che abbiamo conosciuto durante i party E con cui possiamo fare video Però se notti Non possiamo chiamarli per una collaborazione Sicuramente perché la nostra relazione È proprio basta Esatto, esatto Quindi, ebbè, giustamente Prima di fare una collaborazione Ti fa un po' di amicizia Altrimenti poi il video ti esce brutto, no? Ci dobbiamo accontentare di una Tessa a livello 1 Speriamo che vada bene, dai Speriamo che le piaccia Così poi inizia un canale pure lei A metà di livello, no? Hai ragione Ah, il canale di gameplay pure Tessa Eh, eh, no Guarda Ok Subito per collaborare Allora, vediamo i giochi che abbiamo Abbiamo questo gioco che sta piacendo tantissimo Emo Spelunking Ransom È perfetto Fida, ti piacerà anche a Tessa Ma come fanno a stare in due qua? No, è comparso uno sgabello Così all'improvviso Che carina Vabbè, ce l'avevo sotto la scrivania Eri tu che non lo vedevi È più felice di noi giocando Guardala È contentissima Le piacono un sacco i videogiochi C'ha un sorriso smaliante Almeno farà un bel video Un bel video che ci farà fare tantissime visualizzazioni Allora, faccio prima l'intro Però credo Ok, senti questa teoria Ok Che abbiamo una carta in più ogni volta Sei andata Sei andata Appena iniziato il video Tessa se ne è andata Non so che dire Non so che dire Perché Se tu fai una collaborazione Lei prende i piedi e se ne va Questo è perché non ha un livello alto di Vedi? Di YouTube Vedi, ci siamo accontentati Non è professionale questo Tessa non faremo mai più una collaborazione con te Mai più proprio Cos'è la peggior collaborazione che ho mai visto in vita mia? Ma ti sembra che inizia il video All'intro Si andata se ne va Come stai dietro? Mi alzo e me ne vado Mi ha dato ispirazione Mentre fai l'intro me ne vado Ma magari Magari Vai Devi smetterla Ti apri la porta e ti libero Verso un mondo A te sconosciuto Comunque È andata così È andata così Cerchiamo di editarla al meglio Facciamo finta che sia un bel video La collaborazione con testa È andata come è andata Tornata Non lo so È tornata Certo Sta pensando sempre ai party No, non ce la facciamo oggi Non ci credo Io sono rimasta zitta Perché non ho avuto Dicevo no Dai ho letto male Ci ha mollati Ci ha lasciato Solo perché non siamo andati al party con lei Le abbiamo detto di no No Non è la ragazza giusta per noi Cioè Fai la collaborazione E se ne va Ritorna appena finisci di editare il video Con tanta fatica Ti chiede di andare al party Ma tu sei stanco Lei dici di no E ti molla Tessa Ci sono rimasta malissima Ero così felice Per Stimicchi Ed è stato mollato Ma vabbè La vita è anche questo Che devo dire È la relazione più corta della storia Questa No ti giuro Penso di aver fatto una faccia terribile Perché lo leggevo E dicevo no Non può essere vero Cioè ci abbiamo messo una vita Per farli mettere assieme Non può essere vero E invece è andata Sai con chi ci fidanziamo E però viene poi a casa No ma poi l'hai sentita Sì sì Dice pure che si sente triste Quindi viene qua Capito Cioè ci molli E tutto Nella nostra cameretta Cioè oltre il danno Pure la beffa Io non ci credo Ti dicevo Adesso ti faccio vedere Con chi la rimpiazziamo Ok La rimpiazziamo In modo di migliorare il pc Magari diventa felice Avendo capito L'attrezzatura nuova Io diventerai felice Eh esatto Cioè ti gasa Sempre avere cose nuove Una cosa che ci hanno consigliato E che noi non avevamo notato E che possiamo vendere i giochi Con poco interesse Esatto Perché ci hanno detto Che tanto l'interesse non risale Non risale in nessun modo Come nella realtà Un gioco vecchio Non piace più Eh vabbè ma è giusto Ma almeno li vendiamo Non ci avevamo fatto caso A questa casa Menomale che ce l'hanno fatto notare Vediamo a quanto però Vediamo Ok Pensavo peggio eh Sembra GameStop Eh dai Sembra GameStop Questo Io no Guarda oggi Nessuna felicità per noi Nessuna felicità Comunque Vendiamo tutti quelli Che hanno un interesse molto basso E andiamo subito a shoppare Siamo pronti A comprare L'incomprabile Compreremo di tutto Questo è il programma Per editare Giusto Spenderemo 830 dollari Allora Non capisco Quali sono le differenze Ma se una è gratis È quello che usiamo Ma ci sono le info Puoi cliccare sulle info Che magari ci dice No Ok Ah si aspetta Vedi Ah guarda abbiamo più effetti Ci sono gli effetti Dai proviamolo Magari migliora l'editing Infatti qua abbiamo il titolo Il colore E il focus qua ne abbiamo tantissimi Ma scusa dai Con effetti nuovi L'editing deve per forza migliorare Esatto Poi Le cuffie Le cuffie Queste no Anzi facciamo le rosse Mi piacciono più rosse Anche a me piacciono più rosse Ok Ma poi non vorrei esagerare con le cuffie Perché ok che stiamo vestiti bene con i soldi Ma dobbiamo comprare cose più importanti Tipo il Blue Jedi Blue Jedi Vai col Blue Jedi Ok questo lo compriamo assolutamente E guarda la webcam che ci prendiamo Che bella Ma l'hai vista che bella Questa è bella eh Dai dobbiamo fare dei video perfetti per forza Con tutta questa attrezzatura Il mouse non li ha Ah l'avamo già preso Sì il mouse l'avevamo già cambiato Invece il monitor non l'abbiamo mai cambiato Ma l'hai visto? Che cosa? Quello da 450 che sono tre monitor giganti Lo facciamo ti prego Sembra un gi No dai Ti prego dai Ce li abbiamo Dai è fighissimo Dai Mi sembra c'è sì Mamma Lo voglio Sono una brutta persona Prendilo Prendilo Tastiera Tastiera le ignori Non c'è mai Anche questa l'avevamo già comprata Vedi noi abbiamo questa Adesso c'è soltanto questa Ma guarda che bella È accortacciata Che cosa Dai prendiamola Ormai Tanto siamo pieni di soldi Ah ok Abbiamo Abbiamo il carrello pieno Ok Abbiamo comprato troppo Vado Vado 822 dollari Boom Oh mio dio Oh mio dio Ok Dobbiamo stare davanti alla porta E seppure è rotto il pc Vedi un'altra cosa Che ci hanno consigliato Di fare il corso Di conoscenze del pc Per potercelo riparare da sole Esatto Ed è una delle cose Che andremo a fare Assolutamente Perché 20 dollari ogni giorno Perché si rompe una volta al giorno Si si rompe in continuazione Vediamo 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 Allora ok Questo è il programma di editing Guarda va dentro il pc L'hai visto Si si è infiltrato lì dentro Vediamo Poi abbiamo Le cuffie Che vanno qua Che carine che sono Oh mio dio Io sto aspettando i monitor Il microfono nuovo Ok Guarda che bellino Guarda che carino Questa è la webcam mi sa Si Ok Più piccola Più bellina Più professionali di così Monitor Monitor Oh È un'astronave Non ci credo È un'astronave Che cosa c'è C'è il Nyan Cat Ma l'hai visto che è il Nyan Cat Si è vero È fantastico Dai È bellissimo Abbiamo una postazione Fighissima Dai C'è proprio Ora deve andare per forza Tutto bene Voglio festeggiare Con una bella pizza L'ho comprata di nascosto Perché costa tantissimo Ma io ho detto che Da ora in poi Stere Niki mangerà solo pizza E sarà così Poi se finiamo in ospedale È colpa mia Sono disgraziato Non puoi buttare tutti Che stessi sentire Una pizza È sempre verdura Ma facciamo finta Che sia una pizza È pizza Non ti preoccupare Allora So che vuoi fare il corso Facciamo quello per sistemare il computer Ma io prima del corso Voglio fare almeno un video Voglio vedere la nuova attrezzatura Lavoro Ti prego Sì 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 Dai proviamo quello Penso che dobbiamo comprare Anche altri giochi Perché li abbiamo venduti tutti Ricordiamoci di comprare altri giochi Perché non possiamo rimanere con un Guarda Full HD Oddio il Full HD Non ci credo Full HD Ok lo mettiamo assolutamente Microfono Pop filter E poi guarda qua Aspetta Mono directional Omni dire Cosa vuol dire Omni directional Non lo so Però credo che dobbiamo usare il mono Guarda tutte le cose che abbiamo adesso Costano anche tanto Costano tanto Ma abbiamo un sacco di cose Ora sì che si fa serio Sono felicissima Guarda se ci criticano ancora l'editing Io li picchio E anche così non ha funzionato Io non so più cosa inventarmi con l'editing Ragazzi ve lo dico Non lo so più Io te l'ho detto Io te l'ho detto che questi sono hater Comunque guarda Guarda qua Guarda Diana vedi Sta già mostrando un interesse Nei nostri confronti Ci commenta i video Ci conosce Quindi La prossima sarà Lei Prossimo episodio ragazzi Puntiamo su di lei Nuova ragazza Mi ha fatto troppo arrabbiare testa Cioè non ci ha dato neanche la possibilità Ci ha fatto arrabbiare Ci ha subito mollato Perché le abbiamo detto di no per un party Ma ti sembra E poi viene ancora ad usare il nostro computer Come se non la fosse Ok che la nostra conquilina Però Cioè Dovresti evitare Dopo che ci molli Guarda senza pudore Senza pudore Comunque ci stiamo facendo il corso Per le conoscenze base del computer Così ci ripariamo da soli il computer Perché siamo sofisticati Giusto? No il fatto è che Non vogliamo buttare soldi Per il tecnico Quindi va bene così Sta finendo Sta finendo Ok Dai 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 Ce la fai Ok Perfetto Perfetto Qua non cambia nulla Ma credo che quando si romperà Potremo ripararlo Staremo a vedere Spero che vada bene Perché il corso è base Quindi non vorrei che magari Che sia anche per il pc base Perché conta che noi abbiamo Il case più potente Spero vada bene Lo vedremo quando si romperà Ti sono venuti dei miei dubbi In effetti non saprei Eh sì non si sa mai In ogni caso Vedremo Guarda cosa possiamo fare Oh mio dio Allora Vediamo le differenze 320 dollari al mese Sono parecchi Quindi dobbiamo stare calmi Oddio Guarda l'internet No guarda quello dopo Avremo due postazioni Dove poter registrare Sì e quindi possiamo Far venire qualcuno Creda vivere con noi E a fare video Insieme a noi Una roba del genere O magari in una postazione Fai gameplay In una fai vlog In una fai altre cose Non lo so Non lo so Però sarà interessante Però è che bellina che sembra Sembra carinissima È enorme Prima di tutto È enorme rispetto All'unica stanza Che abbiamo ora Solo che mi preoccupa L'affitto è davvero alto Io direi di aspettare Ancora un pochettino Che dici Io direi È alto Ci accumuliamo un po' di soldi E nel prossimo episodio Ci trasferiamo Perché sembra troppo figo Ci voglia dare Così non te ne frega nulla E se poi non riesci a pagare l'affitto Scusami Guarda Un solo video Ci frutta tipo 125 dollari C'è 320 È più o meno il doppio Ce la facciamo Secondo me non è una buona idea Ci faranno sapere Io voglio Voglio i consigli Ok Perché non mi fido di te Quindi voglio i consigli Allora in base ai consigli Decideremo se troppo Riusci nel prossimo episodio Oppure no Vincerò io Daranno ragione a me Perché vogliono vedere La nuova casa Con la piscina Mi daranno ragione Non c'è la piscina Prima di tutto Quindi non dire Cos'è che non sono vere Ok E secondo l'affitto È troppo alto ragazzi Datemi ragione Se votate a me Di tutto un aluto Nel post altro Votate a me Per dei saluti Beh ragazzi Il video finisce così Se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao